Epistola agli ebrei dal capitolo 7 al capitolo 10 Infatti, questo Melchisedec, re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. A lui Abramo diede anche la decima di ogni cosa. Il suo nome significa innanzitutto re di giustizia e poi anche re di Salem, cioè re di pace. Senza padre, senza madre, senza genealogia e senza principio di giorni né fine di vita, ma fatto simile al figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Considerate pertanto quanto fosse grande costui al quale il patriarca Abramo diede la decima del bottino. Ora, quelli dei figli di Levi, che ricevono il sacerdozio, hanno per legge il comandamento di riscuotere la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché essi pure siano usciti dai lombi di Abramo. Costui, invece, Melchisedec, pur non derivando la sua discendenza da loro, ricevette la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza alcuna contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. Inoltre, quelli che qui ricevono le decime sono uomini mortali. La, invece, le riceve colui di cui è testimoniato che vive. E, per così dire, lo stesso Levi, che riceve le decime, fu sottoposto alla decima in Abramo. Egli, infatti, si trovava ancora nei lombi del padre, quando Melchisedec gli andò incontro. Se, dunque, ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico, perché sotto quello fu data la legge al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non designato secondo l'ordine di Aron? Infatti, se viene cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Ora, colui del quale si dicono queste cose appartiene a un'altra tribù, di cui nessuno ha mai servito all'altare. È noto, infatti, che il nostro signore è uscito da Giuda, riguardo alla cui tribù Mosè non disse nulla del sacerdozio. E la cosa è ancora più evidente se sorge un altro sacerdote a somiglianza di Melchisedec, che ne è diventato tale per una legge di comandamento carnale, ma per la potenza di una vita indissolubile. Infatti, la scrittura afferma, «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Si ha, così, l'annullamento del comandamento precedente, a motivo della sua debolezza e inutilità. La legge, infatti, non ha portato nulla a compimento. C'è, invece, l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Inoltre, ciò non è avvenuto senza giuramento. Quelli, infatti, diventavano sacerdoti senza giuramento. Ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto «Il Signore ha giurato e non si pentirà». Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Per questo, Gesù è diventato garante di un patto migliore. Inoltre, quelli che erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare, ma costui perché dimora in eterno a un sacerdozio che non passa ad alcun altro. Per cui, egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostino a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. A noi, infatti, occorreva un tale sommo sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, quando offerse se stesso. La legge, infatti, costituisce come sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento che viene dopo la legge costituisce il figlio reso perfetto in eterno. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che ha eretto il Signore e non un uomo. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, per cui è necessario che anche costui abbia qualcosa da offrire. Ora, se egli fosse sulla terra non sarebbe neppure sacerdote, perché vi sono già i sacerdoti che offrono i doni secondo la legge, i quali ministrano in quel che è figura ed ombra delle cose celesti, come fu detto da Dio a Mosè, quando stava per costruire il tabernacolo. Guarda, egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto egli è mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse, perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non sarebbe stato necessario stabilirne un altro. Dio, infatti, rimproverandoli, dice, ecco, vengono i giorni, dice il Signore, nei quali io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giudo al nuovo patto, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, perché essi non sono rimasti fedeli al mio patto ed io li ho rigettati, dice il Signore. Questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori, e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E nessuno istituirà più il suo prossimo e nessuno il proprio fratello, dicendo, conosci il Signore, poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro, perché io avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti. Dicendo un nuovo patto, egli ha reso antico il primo, or quello che diventa antico ed invecchia è vicino ad essere annullato. Certamente anche il primo patto ebbe degli ordinamenti per il servizio divino e per il santuario terreno. Infatti fu costruito un primo tabernacolo in cui vi erano il candelabro, la tavola e i piani della presentazione. Esso è chiamato il luogo santo. Dietro il secondo velo c'era il tabernacolo detto il luogo santissimo, che conteneva un turibolo d'oro e l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovava un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aron che era germogliata e le tavole del patto. E sopra l'arca vi erano i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio di queste cose che non possiamo parlarne ora dettagliatamente. Ora, essendo queste cose disposte così, i sacerdoti entravano continuamente nel primo tabernacolo per compiere il servizio divino. Ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, non senza sangue, che egli offriva per sé stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario non era ancora resa manifesta, mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo, il quale è una figura per il tempo presente. Or, in esso, venivano offerti doni e sacrifici che non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino, trattandosi solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni e di ordinamenti carnali, imposti fino al tempo della riforma. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta e per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca ha spersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte, per servire il Dio vivente. E perciò egli è mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo piatto, i chiamati ricevono la promessa dell'eterna eredità. Poiché, dove c'è un testamento, ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Il testamento, infatti, è valido solo dopo la morte di qualcuno, perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore. Per questo neppure il primo fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti, secondo la legge, furono proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli, preso il sangue dei vitelli e dei capri, con acqua, l'ana scarlatta e issopo, ha sperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Parimenti col sangue egli ha sperse pure il tabernacolo e tutti gli arredi del servizio divino. E secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificati con queste cose. Ma le cose celesti stesse lo dovevano essere, con sacrifici più eccellenti di questi. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi. E non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati da molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. La legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici, invece, si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né locausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me Io vengo per fare o Dio la tua volontà. Dopo aver detto Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta né locausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge egli aggiunge Ecco, Io vengo per fare o Dio la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre e mentre ogni sacerdote in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati egli invece dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati si è posto a sedere alla destra di Dio. aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi con un'unica offerta infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo infatti dove ha per prima detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni dice il Signore io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. aggiunge e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato. Avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo cioè la sua carne e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede avendo i cuori aspersi per purificarli di una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare perché è fedele colui che ha fatto le promesse e consideriamo gli uni agli altri per incitarci ad amare e buone opere non abbandonando la nostra comune adonanza come alcuni hanno l'abitudine di fare ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete approssimarvi il giorno. Infatti se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non rimane più alcun sacrificio per i peccati ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due testimoni quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia noi infatti conosciamo colui che ha detto a me appartiene la vendetta io darò la retribuzione dice il Signore e altrove il Signore giudicherà il suo popolo e cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente ora ricordatevi dei giorni passati nei quali dopo essere stati illuminati avete sostenuto una grande lotta di sofferenza talvolta esposti ad oltraggi e tribolazioni altre volte facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo infatti avete anche sofferto con me nelle mie catene e avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni sapendo di aver per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli non gettate via dunque la vostra franchezza la quale è una grande ricompensa avete infatti bisogno di perseveranza affinché fatta la volontà di Dio ottiene la promessa ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà e il giusto vivrà per fede ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione ma di quelli che credono per la salvezza dell'aria epistola epistola all'ebrei dal capitolo 7 al capitolo 10 l'anima mia